La ripresa della Toscana per celebrare la terra dei diritti dal no alla pena capitale alla lotta ai linguaggi d'odio, questo è il filo conduttore del consiglio regionale che ha celebrato la ricorrenza. La ripresa della produzione procede a passo regolare alla Confindustria Lucca, ha diramato i dati relativi all'ultimo trimestre del 2021, segno positivo anche per la carta che era in sofferenza. Furto dentro la scuola, i ragazzi tornano a casa, i ladri sono entrati nella notte alla media di Massarosa, questa mattina i ragazzi non sono potuti entrare. Lo sport Modena e Reggiana non perdono un colpo, in Serie C le due capoliste procedono appaiate in vetta alla classifica, in coda sorride solo il grossello. Ben trovati, nuova edizione del TG Noi, in primo piano le celebrazioni per la festa della Toscana. Silvia Toniolo. La Toscana come terra dei diritti, dal no alla pena capitale alla lotta ai linguaggi d'odio, questo il filo conduttore seguito dal consiglio regionale che ha celebrato in seduta solenne la festa della Toscana, ricorrenza istituita per ricordare l'abolizione della pena di morte nel Gran Ducato, decisa nel 1786 con il codice Leopoldino. Alla seduta del consiglio, ospitata per l'occasione dal teatro alla compagnia, hanno assistito sindaci e rappresentanti dei comuni provenienti da tutta la regione. Dopo gli interventi del presidente del consiglio Mazzeo e degli ospiti, le conclusioni sono state affidate al governatore della Toscana, Eugenio Giani. La festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da vent'anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786 ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana sempre esprime per prima, 235 anni fa, sono attuali perché c'è ancora circa quasi 100 paesi più della popolazione mondiale da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. La mattinata si è conclusa con il corteo dei gonfaloni dei comuni fino a Palazzo Vecchio. E a proposito della lotta alla pena di morte, a Lucca, a Porta Elisa, si è tinta di giallo nella giornata per la vita, la città aderito alla giornata internazionale promossa dalla comunità di Sant'Egidio. I numeri del Covid contagiati in Toscana oggi sono 521, tasso di positività all'1,4%, aumentano i ricoveri, salgono a 317, calano le terapie intensive e di due unità diventano 49. Ci sono stati tre decessi in provincia di Lucca, i nuovi contagiati sono 32. Allerta meteo per vento, mareggiate e pioggia. Mercoledì 1 dicembre, bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo per vento, mareggiate e rischio idrogeologico nel reticolo minore. In modo particolare pioggia in Lunigiana, Garfagnana e sulle Apuane. In Versilia si parla anche di forti, mareggiate e vento forte. Parliamo adesso di produzione industriale in provincia di Lucca. La ripresa prosegue a passo regolare. Prevedibili ma importanti come conferme del consolidarsi di una tendenza, gli ultimi dati di produzione industriale di Lucca, Pistoia e Prato raccolti dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord. Nel terzo trimestre del 2021 la crescita tendenziale della produzione industriale nell'area, calcolata rispetto allo stesso periodo 2020, si colloca più 8,4%. Per quanto riguarda la provincia di Lucca, tutti i settori portano il segno positivo, con la sola eccezione dell'alimentare, che viene però da un periodo con più 4,2% nel 2020. Buoni, talvolta ottimi risultati di tutte le altre tipologie merceologiche. Anche la carta rientra in territorio positivo con un più 2,2% che segna una svolta importante. La produzione di Lucca realizza nel terzo trimestre 2021 un risultato superiore del 2,4% alla media del 2019, commenta il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti. L'obiettivo del recupero rispetto al periodo pre-covid è quindi centrato. Incrementi infatti si registrano anche per moda, lapideo e nautica. Continua la serie positiva dei settori legati ai metalli e alla costruzione di macchine. La crescita più rilevante è ancora una volta quella della chimica e plastica con un più 19%. Tuttavia, ha concluso Pieretti, i volumi soddisfacenti di produzione non significano margini adeguati. I costi energetici colpiscono in maniera forte tutti i settori, così come gli aumenti delle materie prime e dei trasporti. Adesso andiamo a Massa Rosa per una notizia di cronaca. C'è stato un furto nella notte dentro le scuole medie. Questa mattina gli alunni sono dovuti tornare alle proprie case. Ladri in azione nella notte alla scuola media Pellegrini di Massa Rosa. I gnoti si sono introdotti forzando una porta antincendio e una volta all'interno hanno preso di mira la sala computer. Il bottino è di una decina di tablet. Ancora da quantificare esattamente il valore totale della merce trafugata. È stato il personale scolastico a scoprire il furto all'arrivo a scuola al mattino. Gli studenti sono stati rimandati a casa per consentire i rilievi da parte delle forze dell'ordine e le opere di sanificazione. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti sul posto. I militari stanno vagliando le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del furto. Sempre nella nottata è stata presa di mira anche la cartoleria che si trova proprio di fronte alla scuola. I ladri, una volta entrati, hanno forzato il fondo cassa portando via alcune centinaia di euro. Probabile che si tratti degli stessi malviventi. Anche su questo dovranno fare luce le indagini dei carabinieri. E ancora per la cronaca andiamo però a Porcari dove ci sono stati momenti di paura nel pomeriggio per un appartamento in via Barzanti che è andato a fuoco. Un appartamento nel quale erano presenti madre e figlia di due anni che sono state soccorse dai vicini. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che l'incendio fosse subito domato. La donna è arrivata in ospedale in codice giallo ma solo per precauzione. La bimba sta bene. Purtroppo al termine dell'operazione di spegnimento il personale dei vigili del fuoco ha compiuto verifiche al termine delle quali due degli appartamenti dello stabile di via Barzanti sono stati dichiarati non accessibili. Dieci persone sono attualmente senza alloggio. Parliamo delle elezioni provinciali. C'è anche un terzo polo, una lista elettorale che si presenta in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Lucca. La rata delle elezioni ormai da anni consultazioni di secondo livello dunque limitate solo ai consiglieri comunali, ai sindaci eletti sul territorio è quella del 18 dicembre. Spunta una terza lista elettorale in vista del rinnovo del Consiglio provinciale di Lucca. La data delle elezioni, ormai da anni consultazioni di secondo livello e dunque limitate solo a consiglieri comunali e sindaci eletti sul territorio, è quella di sabato 18 dicembre. In queste ore sono state ufficializzate le liste ammesse e rispetto a due anni fa, quando si presentarono i soli gruppi del centro-sinistra e centrodestra, stavolta c'è anche il simbolo di in provincia, la numero uno che rappresenta amministrazioni civiche ibride. Tra i candidati di questo terzo polo c'è la consigliera viaregina Chiara Consani, il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, il sindaco di Coreglia Marco Remaschi. Il delegato del gruppo è l'assessore Rodolfo Salemi della giunta di Giorgio del Ghingaro. Nel 2019 il sindaco di Viareggio affermò polemicamente di essere stato escluso dalla competizione sia dal centro-sinistra che dal centro-destra e la città del Carnevale rimase infatti senza rappresentanza diretta a Palazzo Ducale. La lista numero due è centrodestra e civiche per la provincia di Lucca e la numero tre è provincia civica democratica e progressista con Menesini. Si voterà dalle 8 alle 20 del 18 dicembre nel seggio principale di Palazzo Ducale a Lucca e nelle due sottosezioni di Castelnuovo Garfagnana e di Viareggio. Il Consiglio provinciale, eletto su base proporzionale, si rinnova ogni due anni, a differenza del Presidente che resta in carica 4. Luca Menesini è stato confermato due anni fa ma visti gli equilibri amministrativi e le ultime novità potrebbe ritrovarsi con una maggioranza diversa da quello che lo ha sostenuto fino ad oggi. Adesso andiamo ad Alto Pascio, grande investimento del Comune per le luci di Natale non solo in Paese ma anche nelle frazioni. Accese le luci di Natale ad Alto Pascio, in centro e nelle frazioni. Da sabato tutto il Paese è addobbato per accogliere il periodo delle feste e calare ancora di più la comunità nell'atmosfera che accompagnerà la scoperta delle iniziative e dello shopping fino al 7 gennaio 2022. L'amministrazione comunale, assieme ai centri commerciali naturali di Alto Pascio e Spianate, i comitati passanti di Badia e Marginone e tanti abitanti, hanno infatti arricchito ulteriormente le luminarie paesane con installazioni originali e uniche, biglietti da visita per il territorio. L'obiettivo è quello di un Paese in festa, non soltanto del centro di Alto Pascio. In quest'anno abbiamo lavorato molto in questo senso e il fatto che quest'anno siamo in grado, grazie a tutte le associazioni e comitati paesani, di poter partire insieme in modo sincronizzato è una bella soddisfazione. Un maestoso albero in piazza della Magione, cipressi intorno alla chiesa e così anche il campanile, simbolo della cittadina del Tao. Partiamo l'8 di dicembre in via Cavour con un evento studiato per i bambini, una caccia al tesoro nel villaggio degli Elfi dove tutti i commercianti si renderanno partecipi. Gli eventi saranno tanti, saranno ricchi, saranno studiati proprio per le famiglie, per riportare un po' di socialità all'interno proprio del centro storico del Paese. Non restano indietro le frazioni Badia Pozzeveri e Marginone e poi ancora spianate con via Mazzei, il corso principale tutto illuminato, novità anche per piazza San Michele, diventata per l'occasione un insolito prato fiorito. Parliamo adesso di volontariato, il prossimo 5 dicembre dalle ore 14 le porte della Croce Rossa italiana di Bagni di Lucca saranno aperte fino alla sera, dal pomeriggio sarà presente uno stand di accoglienza nel piazzale antistante della sede di Viale Roma, chiunque può visitare i locali e avere accesso anche ai mezzi della Croce Rossa per capire quale potrà essere eventualmente il suo impegno nel volontariato. E a proposito di volontariato, importante iniziativa Barga per la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Il gruppo Fratres è entrato nelle scuole spiegando ai ragazzi di cosa si tratta. Educare i ragazzi anche a comportamenti che possano aiutare il prossimo in difficoltà, così gli incontri per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti che hanno compiuto, che stanno per compiere i 18 anni e che quindi possono diventare donatori di sangue attivi. Questa specifica iniziativa è stata sostenuta dall'ISI di Barga e si è svolta sabato scorso all'ITT Ferrari di Borgo a Mozzano, mentre questo lunedì ha riguardato i ragazzi dei licei di Barga ed in seguito dell'Istituto Alberghiero. Ad organizzare il coordinamento territoriale Fratres della Media Valle del Serchio che ha aderito ad un progetto regionale Fratres. A parlare con i ragazzi, tra gli altri, la dottoressa Antonella Bertelli, consigliere e consulente sanitario Fratres della Regione Toscana, che ha parlato degli aspetti legati alla donazione di sangue e plasma e del ruolo attivo che possono avere le nuove generazioni in questa opera importantissima. I ragazzi hanno potuto ascoltare anche la testimonianza di Ilaria Pini, che periodicamente necessita delle infusioni di sangue. Per quanto riguarda la Media Valle del Serchio, il presidente del coordinamento Media Valle, Giovanni Dinelli, riferisce a una situazione relativa alle donazioni in linea con gli anni passati ed anzi con il periodo della pandemia che ha fatto registrare un incremento delle donazioni di sangue. Anche i ragazzi stanno rispondendo alle utili iniziative di sensibilizzazione che svolgono sul territorio i vari gruppi Fratres. Ma c'è ancora tanta strada da fare, è importante quindi proseguire nell'opera di promozione tra i giovani. Chiudiamo con una notizia che riguarda pesce, mercatini di Natale domenica 5 dicembre dalle 9 alle 17 nel Centro Storico in programma un'edizione speciale di Antiqua, un'edizione dedicata alle imminenti festività del Natale. Ci fermiamo per la prima parte del TG Noi, un breve break e tra poco c'è lo sport. Grazie.